Ok, dovremmo esserci... benissimo. Allora, direi che possiamo iniziare, come già abbiamo annunciato su Telegram, oggi e la prossima settimana, cioè questa settimana e la prossima settimana, ci occupiamo dell'interazione tra la parte client che abbiamo imparato a sviluppare fino alla scorsa settimana esclusa e la parte server che abbiamo sviluppato la scorsa settimana. Quindi adesso dobbiamo fare in modo di farle parlare insieme e quindi capire quali sono le difficoltà, le possibilità, come andare dal browser e dalla nostra applicazione React a caricare i dati che arrivano dal server, quindi andarli a richiedere e caricarli senza ricaricare tutta l'applicazione e poi capire come far funzionare questo meccanismo che è a disposizione all'interno del browser di caricare informazioni al server integrandolo nella nostra applicazione React. Quindi questo ci terrà occupati oggi e la prossima settimana, sia a lezione sia in laboratorio. Quindi oggi dovremmo arrivare a vedere, diciamo, sostanzialmente per la nostra applicazione, dopo un po' di introduzione più teorica e qualche esempio, il caricamento dei dati del server, solamente il caricamento. La prossima settimana completeremo il discorso e faremo anche tutte le altre operazioni di aggiornamento dei dati, quindi la creazione, la modifica e la cancellazione, che sono un po' più, come dire, difficoltose perché implicano una certa serie di considerazioni da fare a riguardo che richiedono appunto il loro tempo. Mentre invece il semplice caricamento, sono dati che sono sul server, li leggiamo, li portiamo nel client, li visualizziamo e quindi sostanzialmente andiamo a sostituire quei dati fissi che abbiamo scritto nel JavaScript con i dati che arrivano dal server. Un'operazione abbastanza veloce, una volta capito il meccanismo. Va bene, allora prima di tutto parliamo della comunicazione client-server. Ovviamente lo faremo con un focus specifico su React, ma queste slide introduttive sono abbastanza generali che riguardano qualsiasi applicazione web. Qualsiasi applicazione web ha una parte client e una parte server. Se no, non sarebbe web, sarebbe un'applicazione locale. Ok, quando ci mettiamo a sviluppare un'applicazione web, abbiamo subito il problema che, allora, prima di tutto è un'applicazione web, quindi c'è un server. Il server, quando lo contattiamo, deve per prima cosa fornirci tutto il codice della nostra applicazione, che è quello che è successo finora con il nostro server di sviluppo. Noi facciamo npm, run, dev, con byte, che è il pacchetto che usiamo quest'anno, ma qualsiasi altro pacchetto che ci consente di sviluppare in React, ci mette a disposizione un server web dal quale carichiamo la nostra applicazione. E questo è un primo server web. E poi abbiamo un secondo server web, che è quello che abbiamo sviluppato la scorsa settimana, che è quello che effettivamente ci fornisce i dati, ci fornisce le API. E quindi, intanto, abbiamo già, come dire, possiamo chiamarlo un problema, se così lo vogliamo definire, cioè c'è la parte client e non c'è solo un server, ma ci sono logicamente due server da gestire. Uno fornisce la parte iniziale, quindi il codice della nostra applicazione, e l'altro invece fornisce i dati. Quindi abbiamo una parte client e due parti server da far funzionare insieme. In questo blocco di slide, che tratteremo in maniera abbastanza veloce, accenniamo a come possono essere risolti questi problemi, e poi vi diamo una strada da seguire per il corso e per l'esame. Non è l'unica strada, discuteremo brevissimamente di vantaggi e svantaggi, però questo argomento, di nuovo, esula un pochettino dal discorso, e quindi lo trattiamo solo per quanto ci serve effettivamente. Quindi noi abbiamo questo problema dei due server, che adesso sarà disegnato per visualizzarlo meglio sulle slide, e lo risolveremo con questo primo approccio che è usato nel corso. Ok, quindi questa è l'architettura concettuale che abbiamo per visualizzare la nostra applicazione. Allora, c'è l'utente, c'è il browser, il browser fa girare la nostra applicazione React, che è ciò che abbiamo fatto fino alla scorsa settimana esclusa, perché la scorsa settimana ci siamo concentrati sul server, quindi abbiamo i nostri componenti React, la nostra applicazione React, tutto il JavaScript che gira e così via. Qualcuno deve fornirci questa applicazione all'avvio, cioè il browser lo apriamo e dobbiamo mettere un URL sul browser per caricare l'applicazione. E questo l'abbiamo sempre fatto con questo server, diciamo, chiamiamolo React, ma che è il server di sviluppo che è venuto insieme a tutti i pacchetti React che noi abbiamo installato all'inizio con quel create, byte, at, latest, eccetera, che ci metteva a disposizione l'ambiente React in cui programmare. E questo va bene, questo ci risolve la prima richiesta HTTP iniziale, quella che noi mettiamo sull'URL, ci viene messa automaticamente sull'URL come localhost 2.5173, mi sembra che fosse la porta, e questo carica la nostra applicazione. E va bene. Il punto è che questo server di sviluppo piccolino, integrato, invite e così via, non fa funzionare Express, che è quello che vogliamo usare noi per nostra comodità, per sviluppare in maniera semplice le API che ci forniscono i dati dal lato del server, e non ci consente di aggiungere root, soprattutto. Quindi c'è solo una root, che è questa slash, che serve a fornire l'applicazione quando la vogliamo caricare. Quindi è proprio un server minimale, sul quale è difficile intervenire. D'altro canto noi abbiamo bisogno di parlare con il server che ci fornisce i dati, quello che noi chiamiamo API server, che è quello che abbiamo fatto funzionare la scorsa settimana, avete provato a far funzionare in laboratorio. Non ancora collegato alla nostra applicazione, oggi lo colleghiamo, però avete provato a fare delle semplici richieste HTTP che venivano o dal browser, se erano delle semplici GET, oppure dagli strumenti che avevate, quindi quel REST client integrato in Visual Studio, piuttosto che altri strumenti che sono in grado di fare richieste HTTP, che qualcuno stava anche usando. Ok? Quindi, questo API server funziona bene per le nostre API, quindi possiamo scrivere le root che desideriamo, slash films, slash id, due punti id, eccetera, tutto quello che avete fatto in laboratorio, però non abbiamo più l'applicazione. Chi ci serve l'applicazione all'inizio, chi ci dà il codice dell'applicazione a caricare quando vogliamo aprire l'applicazione web, in più questo server non capisce il JXX, non sa nulla di React, è un normale server web. Mentre invece tutto l'ambiente di sviluppo di React prende il codice JSX, lo trasforma in codice Java, scritto lo mette tutto insieme, lo serve alla parte client per fare in modo che funzioni all'interno del browser. Quindi dobbiamo fare in modo di collegare le due cose. Quindi, siamo in questa situazione in cui abbiamo due server e un unico client che è il nostro browser che deve parlare con entrambi. E dobbiamo capire come fare. Abbiamo già risolto, diciamo, questo pezzettino, abbiamo detto, noi parliamo sempre in formato JSON per il trasferimento dei dati, perché è la cosa più semplice da gestire, sia lato server, sia lato client, quando dobbiamo trasferire oggetti complicati, array, oggetti veri e propri, con proprietà, valori e così via. Quindi, questo, diciamo, a parte, abbiamo già deciso che la facciamo in JSON, ci rimarrà, e oggi lo vediamo, come caricare, quindi far partire delle richieste dal browser, da React, verso un altro server, che richiederà di usare una primitiva disposizione all'interno del browser che si chiama fetch. E oggi lo facciamo. E poi, da capire, è come far funzionare tutto il meccanismo con questi due server. Perché? Perché noi possiamo, diciamo, in qualche maniera, cercare di prendere il codice di React e portarlo dentro a Express. Questa è una possibilità. La seconda possibilità è lasciare che il browser faccia richieste verso server differenti. Quindi, una, la prima richiesta, da dove carica l'applicazione, e la seconda, richiesta, e successive, verso il server che ci fornisce i dati. Questo però si porta dietro un'implicazione di sicurezza, nel senso che le applicazioni web normalmente non possono parlare con qualsiasi server desiderano per una questione di sicurezza, che adesso discutiamo. quindi, è chiaro che ogni soluzione ha i suoi vantaggi e svantaggi. Perché? Perché nel momento in cui dobbiamo prendere il codice React e portarlo dentro a Express, dobbiamo, ogni volta che facciamo una modifica, soprattutto in fase di sviluppo, rifare il pacchettino, rimetterlo dentro a Express, e così via. Ok? Non è facilmente integrabile come, cioè non c'è un tool come il nodmon per dire che automaticamente ci ripacchettizza tutto, ce lo mette dentro a Express ogni volta che facciamo le modifiche. Quindi, c'è una questione di comodità. D'altronde, se lasciamo separati i server, c'è questa questione di sicurezza che adesso discutiamo brevemente, che dovrà essere affrontata. non tanto in fase di sviluppo, perché in fase di sviluppo è semplice, noi consentiamo di fare tutto e risolviamo il problema, ma poi, se la nostra applicazione va in produzione, cioè vuol dire viene usata effettivamente in qualche contesto reale, dobbiamo, diciamo, configurare correttamente tutte le questioni relative alla sicurezza. D'altronde, separare i server può anche essere comodo, perché avere due server anziché uno distribuisce automaticamente il carico che la nostra applicazione client produce. Se ci fossero tante istanze nella nostra applicazione client, cioè abbiamo tanti utenti che la usano, automaticamente il carico viene distribuito su più server. E, spesso, non c'è alternativa ad usare più server. Perché? Perché se noi usiamo API di terze parti, il server per forza è loro, non è nostro, e quindi non è che possiamo chiedere a questo server di terze parti di andare a inserire il nostro codice React, no? Ovviamente. Non so che registi che ho toccato dietro, sì. Ok, quindi, che so, volete integrare nella vostra applicazione web le previsioni del tempo? Ovviamente non vi mettete voi a fare le previsioni del tempo, avrete un API, un sito, qualcuno che vi fornisce delle informazioni che voi portate dentro e visualizzate nella vostra applicazione, ma la richiesta è fatta comunque verso un server di terze parti. Volete sapere le ultime quotazioni di borsa, piuttosto che, non so che altro, che il traffico, quello che volete, su un server di terze parti su cui non possiamo fare nulla e non possiamo certamente portare la nostra applicazione. Ok, quindi, le soluzioni possibili sostanzialmente sono due, cercando di semplificare un po' il discorso, uno è quello di avere il client più due server indipendenti ed è quella che useremo nel nostro corso, perché alla fine per lo sviluppo è comoda e ci bastano due righe di codice sul server per farla funzionare, diciamo così, e un'altra che vi lascio sostanzialmente da leggere, ma vi accenno solo qual è l'idea, è che nel momento in cui volessimo mettere tutto su un unico server, possiamo prendere la nostra applicazione React, chiedere ai pacchetti che abbiamo installato e che ci supportano allo sviluppo di creare un unico, si chiama bundle, cioè un gruppo di file statici, compilati, dove il GSX è stato trasformato in codice JavaScript, sono tutti file statici, CSS, tutto quanto, le immagini, eccetera, è stato messo tutto insieme, metterlo come contenuto statico in una root statica di Express e questo si può fare, però questo fa sì che noi abbiamo un unico server e dobbiamo configurarlo opportunamente, dobbiamo avere il controllo del server e poi ci rimane comunque il problema del server esterno nel momento in cui vogliamo usare dati di terze parti, ok? Per cui riteniamo che vedere questa soluzione possa comunque essere interessante a prescindere, ok? In più, come vi dicevo, questa soluzione è il problema che ogni volta che toccate qualcosa nell'applicazione dovete ricreare il bundle, quindi è come se ricompilaste la vostra applicazione, di fatto effettivamente è una compilazione perché per esempio il GSX va trasformato in codice JavaScript, per noi avviene automaticamente quando sviluppiamo perché ce lo fa in maniera trasparente tutto il sistema ma nel momento in cui noi diciamo che vogliamo effettivamente vedere i file statici da prendere e mettere su un server web statico dobbiamo chiedere di fare questa operazione esplicitamente. Quindi noi useremo questa soluzione dei due server separati nel corso e quindi andiamo a vederla. Per nostra comodità come sempre entrambi i server gireranno sulla macchina locale localhost perché come vi dicevo un'altra volta potremmo avere un client o un server se ci mettiamo un secondo server dovremmo andare in giro con tre computer o avere il server in giro per la rete chissà dove con le conseguenti scomodità di andare a editare i file remoti oppure di caricarli ogni volta e così via. Quindi noi esclusivamente per nostra comodità facciamo funzionare tutto sulla nostra macchina locale quindi l'indirizzo ip oppure il nome dell'host sul quale andiamo a fare le richieste sarà sempre localhost ma questo non vuol dire che debba girare tutto ovviamente sulla stessa macchina locale anzi in generale in un'applicazione reale saranno sempre diverse ok per far funzionare diversi server sullo stesso host indispensabile che i server rispondano a porte differenti ok quindi perché non si può avere due server sulla stessa porta ok una è stata fissata dall'application server di react quella 5173 che vediamo sempre quando abbiamo visto fino alla scorsa settimana esclusa sviluppando e l'altra la decidiamo noi basta che sia una porta libera sulla quale non c'è nessun altro server in ascolto ok non ci può essere più di un server tcp in ascolto sullo stesso host stessa porta semplicemente perché poi quando arrivano i pacchetti non si sa più a chi dirigerli la porta è un meccanismo per indirizzare uno specifico server piuttosto che un altro ok quindi il browser riceverà all'inizio l'applicazione react dal localhost port 5173 quella di default che apre byte quando noi creiamo l'applicazione facciamo npm run dev e poi quando andremo a caricare i dati dovremo essere noi nella nostra applicazione che sappiamo qual è l'indirizzo del server che ci esporta i dati quindi quello dell'api e nel nostro caso sarà tipicamente http localhost due punti 3000 3001 insomma quello che avete messo per il vostro server che abbiamo sviluppato che avete sviluppato la scorsa settimana ok dobbiamo solo aggiustare questo piccolo problema non piccolo però problema di sicurezza ok quindi di default le policy le politiche di sicurezza del browser impediscono di caricare informazioni da un indirizzo e una porta diversi dal quale è stata ricevuta la pagina web iniziale no perché perché altrimenti voi navigate su un sito qualsiasi no e poi questo sito si mette a fare richiesta a destra a sinistra per i vostri per altri siti ok quindi faccio sempre l'esempio del sito della vostra banca voi andate navigate su www.chebelsito.com pensando che ci sia chissà cosa sopra cose interessanti quello che volete e quello fa richiesta http banca punto com slash preleva slash non lo so qualcosa e poi magari voi in un altro tab in un'altra finestra nello stesso browser avete la sessione autenticata verso la vostra banca e quindi quelle richieste vanno a buon fine perché non è che devono essere autenticate voi avete un'altra finestra nel browser autenticata che può fare operazioni in quel senso adesso faccio un esempio un po' limite la banca adesso ci chiede sempre di confermare col cellulare tutte queste menate questo è anche uno dei motivi per cui lo fanno però può essere qualsiasi altra cosa può essere il sito che spedisce le email può essere il sito del politecnico che dice basta questo esame non lo voglio più dare mi cambio il piano carriera non lo so qualsiasi cosa che vi disprenota dall'esame non lo so qualsiasi cosa ok quindi questo di default è proibito da tutti i browser ok perché sarebbe comunque un rischio di sicurezza quindi questo è il lato browser in generale è proibito a meno che il sito che vogliamo contattare che ci fornisce l'API non ci dica che ci sono certi altri siti per i quali il contatto è esplicitamente ammesso ok quindi noi diremo sull'API del server ok che queste API del server possono essere contattate da qualsiasi altro sito ok per dire al browser guarda noi ci fidiamo che le nostre API possono essere contattate da qualsiasi altro sito ovviamente in una condizione normale non faremo una cosa di questo tipo chi può fare una condizione di questo tipo chi ha sostanzialmente delle API in sola lettura che vuole fornire a tutti come vi facevo l'esempio prima previsioni del tempo se chi ci fornisce le previsioni del tempo non dice al browser guarda qualsiasi sito può richiedere informazioni tanto a me non interessa io non ho rischi particolari di sicurezza per il fatto che qualcuno mi chieda delle informazioni ok questo può andar bene ok invece in generale i siti che consentono di modificare informazioni di cambiare qualcosa e così via faranno bene attenzione a indicare come siti permessi solamente indirizzi e porte di applicazioni di cui si fidano ok può succedere anche nell'ambito di applicazioni complesse che l'applicazione sia servita da un host o una porta e le API siano fornite da un altro host o un'altra porta per questioni di scalabilità come dicevamo prima e così via però spesso magari c'è che so banca.com e poi c'è api.banca.com che sono due url differenti quindi sono due host differenti che però si fidano a vicenda ok quindi api.banca.com diceva se l'applicazione è stata caricata da banca.com va bene può farmi le richieste io ti do le risposte tu le puoi usare tranquillamente ok però se non è banca.com ma è il mio bellissimo sito.com no questo il browser non deve più consentirlo ok la faccenda è un po' più complicata di così ma diciamo che con questo esauriamo il discorso e diciamo che nel nostro caso solo solo ed esclusivamente i fini di sviluppo diciamo chiunque può farci le richieste perché è la cosa più semplice perché diciamo noi non trattiamo niente di particolare però nel momento in cui andaste a mettere in produzione un'applicazione di questo tipo dovete specificare bene qual è il sito della vostra applicazione che è l'unico autorizzato a farvi le richieste sul vostro server dell'API ok questa cosa si chiama course cross origin resource sharing cioè la possibilità di condividere informazioni tra diverse origin cioè origini volessimo tradurlo in italiano che vuol dire sostanzialmente coppia di nome host più porta ok fornisce un'origine differente fondamentalmente una maniera di identificare un server web ok quindi è chiaro che ogni soluzione ha i suoi vantaggi e svantaggi se noi mettiamo tutto sul server web questo problema non si pone perché il server web è fidato di default per definizione perché è il nostro server web lì serviamo l'applicazione lì serviamo l'api se mettiamo su server differenti bisogna configurare correttamente questo course quindi assolutamente evitare che le api possano essere accedute senza che l'utente lo sappia quindi senza che il browser lo sappia da host differenti quindi qualcuno può scimmiotare il nostro sito far finta di essere il nostro sito come fanno finta di essere il sito della banca e chiedervi informazioni mandare le richieste al server dell'api e fare effettivamente le operazioni ok quindi se il course è configurato correttamente il browser ferma queste richieste ok come farlo funzionare è molto semplice ed è per questo che abbiamo anche scelto questa soluzione sono due righe nel lato server c'è un modulino che si chiama course npm install course e poi lo attiviamo è un middleware come tanti altri middleware facciamo app use app è la variabile di express punto use course e abbiamo risolto il nostro problema qui ovviamente per tutti i domini se lo dovessimo restringere dobbiamo andare a vedere come configurare il course prenderà una serie di opzioni ci sarà il dominio o i dominio sui quali consentire questa operazione eccetera però noi diciamo che al momento facciamo così per nostra semplicità come mettiamo tutto su localhost e così via ok quindi questo adesso però poi ci richiede di approfondire un po' le cose diciamo che nel nel nostro caso quindi lato api server diciamo semplicemente che require course use course dobbiamo ovviamente sapere qual è la porta e anche il nome host ma il nome host abbiamo detto è implicito è localhost perché non giriamo con tre computer non vogliamo avere i computer in giro per la rete quindi è localhost e quindi lato client nel file che oggi svilupperemo ci faremo un file apposta per gestire al meglio l'api verso il server andremo a fare delle richieste con http localhost 3000 la stessa porta sulla quale facciamo girare l'api server e poi andremo a chiedere gli url che ci interessano e questi url diciamo saranno autorizzati dal browser e quindi potremo leggere sostanzialmente le risposte lo vediamo poi in pratica finché non mettiamo il corso vediamo cosa succede e per leggere queste risposte avremo bisogno di una nuova primitiva che non abbiamo ancora introdotto lato browser che si chiama fetch che è la maniera diciamo moderna di andare a caricare url quindi fare richiesta http a un server in maniera asincrona da codice javascript ok quindi dentro userfx che di nuovo vedremo oggi ok comunque l'importante è che sappiamo dove sta il server sappiamo qual è la porta autorizziamo l'uso delle risposte anche su origini che non sono la stessa dell'applicazione quindi sostanzialmente un localhost comporta diversa e poi semplicemente usiamo questi valori e quindi facciamo le richieste questa parte ve la lascio da leggere nel senso che c'è tutta la spiegazione su come creare un pacchetto da far mettere su un server web statico qualsiasi quindi può essere il nostro express può essere un server in giro per la rete dove volete insieme alle vostre API ok quindi sapete che noi facciamo npm run dev che vuol dire lancia il server di sviluppo e sviluppa però ci sono tanti altri comandi tra cui build che ci creano un pacchetto di file statici ok quindi noi possiamo poi farne quello che vogliamo sono file statici sono come se ci avessero creato un html con delle immagini sarà codice javascript lo mettiamo su un server web da qualche parte e abbiamo la nostra applicazione che può essere spostata e messa dovunque in qualsiasi server web basta che aggiustiamo i percorsi qui questo lo guardate ma noi non lo chiediamo direi che a meno che non siate interessati a fare una prova metterla effettivamente da qualche altra parte che non sia il server di sviluppo potete tranquillamente ignorarlo ecco vi sottolineo solo una cosa che quando create questo pacchetto se facciamo gli import come abbiamo peraltro fatto finora nell'applicazione fatti bene che vuol dire che includiamo anche i file css i vari pacchetti delle icone e così via in questo build viene incluso tutto quanto ok quindi vi ricordate che noi abbiamo fatto per esempio import che so c'era app.css come facciamo a fare un import di un css css non è codice javascript no com'è che funziona funziona perché sotto c'è tutto un sistema che riconosce che css ve lo mette insieme a tutto il resto del css che c'è tenendolo isolato e facendo in modo che si carichi all'avvio e tutto quanto in maniera del tutto automatica noi abbiamo incluso bootstrap .css o qualcosa di questo tipo nelle nostre applicazioni e questo viene diciamo viene preso in carico dal meccanismo che ci crea tutto il pacchetto che si chiama webpack che è integrato in questo byte che noi abbiamo usato per creare lo scheleto dell'applicazione react quindi sostanzialmente diciamo che noi importiamo tutto e non dobbiamo preoccuparci poi di dove finiscono perché da qualche parte finiranno e finirà tutto nella cartella dove ci mettono questo bundle che noi prenderemo copieremo uguale identico così com'è sul server di nostro interesse punto e basta ok quindi questo discorso è terminato e termina dicendo che sostanzialmente noi dobbiamo dove è andato no era prima dobbiamo usare questo schema course autorizzato per tutti per nostra comodità in fase di sviluppo sapere su che porta lanciamo il server e semplicemente andare a fare le richieste al localhost su quella porta ok ci sono dei dubbi qualcuno che aveva delle idee differenti abbiamo cercato di semplificare il discorso al massimo perché non è una parte fondamentale ma dobbiamo sapere cosa sta succedendo allora se non ci sono dubbi o domande andiamo a vedere qual è la primitiva che ci consente di fare le richieste e dopo andremo ad inserire la primitiva questa fetch nel punto corretto di tutta l'applicazione react e per far questo dovremo introdurre un hook nuovo il più complicato che vedremo finora anche l'ultimo che ci consentirà di gestire almeno queste richieste dentro react ok quindi continua tutto andiamo a prendere la nostra fetch fetch vuol dire ovviamente caricamento quindi noi dobbiamo caricare i dati da un server in maniera asincrona e vedere come possiamo farlo al meglio non è una cosa particolarmente complicata ma è importante capirla perché è alla base di tutto il resto che andremo a fare ok noi siamo in questa situazione abbiamo caricato l'applicazione quindi con npm run dev qualcuno ci ha caricato l'applicazione abbiamo i nostri componenti react che girano e dobbiamo fare le richieste verso il server dell'API ok avete già visto prima qui scritto fetch oggi cioè adesso parliamo effettivamente di questa fetch che è il meccanismo che all'interno del browser ci consente di fare le richieste poi parliamo di come farlo in react abbiamo avete visto già un set di slide che non esaureremo oggi su questo allora come si fa a fare richieste web da codice javascript nel browser bene dobbiamo usare un API del browser quindi non sono API server è codice javascript che noi scriviamo nel browser e dobbiamo chiamare il metodo fetch questa API si accede tramite la chiamata di un metodo che si chiama fetch che è disponibile in qualsiasi punto della nostra applicazione perché la nostra applicazione è codice javascript gira nel browser e l'oggetto window che è disponibile in qualsiasi punto è globale disponibile in qualsiasi punto del nostro codice javascript ci mette a disposizione una serie di funzioni set set timeout per esempio l'abbiamo già usata c'è anche fetch fetch è una primitiva che è in grado di prendere un url completo http localhost http quello che volete due punti con una porta eccetera slash qualsiasi cosa che vogliamo andare a fare una richiesta http che parte dal browser quindi partirà dall'indirizzo sul quale sta girando il browser sulla macchina sulla quale sta girando e farà una richiesta http verso un server se non diciamo nulla farà una richiesta get un po' come succede quando mettiamo nulla sulla barra del browser ci saranno poi delle opzioni che ci consentono di fare richieste di altro tipo faremo le post put delete quelle che abbiamo visto la scorsa settimana è disponibile dovunque all'interno del codice javascript che gira nel browser quindi questa è una funzionalità del browser ma a noi serve nel browser va bene così e ritorna guarda caso una promise che è uno dei motivi per cui abbiamo anche tanto insistito sulle promise perché questa fetch integrata nel browser ritorna una promise perché ritorna una promise perché le richieste che andiamo a fare in rete sono per definizione assincrone cioè noi mandiamo una richiesta e poi il server quando riceverà la richiesta e avrà voglia di risponderci ci risponderà quindi dobbiamo aspettare che il server ci risponda e ovviamente non possiamo assolutamente aspettare bloccando l'esecuzione del codice sul browser altrimenti si blocca tutta la nostra applicazione web allora per evitare ciò ma comunque dare una maniera di dire che cosa fare nel momento in cui riceviamo la risposta avete visto all'inizio del corso abbiamo visto insieme che le promise sono uno dei meccanismi più efficienti no? l'alternativa qual è? l'alternativa sarebbe stata e si faceva prima della fetch di avere una primitiva a cui passavamo una callback una callback chiamami la callback quando hai finito però qual è il problema della callback è che poi le callback se devo fare una seconda cosa una terza cosa devo annidarle ricordate che abbiamo parlato del callback hell l'inferno delle callback perché una dentro l'altra a un certo punto si capisce più nulla e per questo è nato il meccanismo delle promise quindi questa primitiva fetch che è un po' più moderna ritorna a qualcosa un po' più comodo che è appunto la promise che una volta risolta ci darà ci metterà a disposizione un oggetto di tipo response che adesso andiamo ad esplorare con tutti i dettagli della richiesta e soprattutto della risposta dal quale possiamo andare a ricavare ciò che il server ci ha risposto ovviamente potrà succedere come per tutte le promise che la promise vada in stato rejected quindi per qualche problema si finisca in stato rejected e se voi andate a leggere la documentazione della fetch su mdn quindi mozilla developer network o comunque qualcuno che vi racconti come funziona la fetch vedrete che il reject capita solo nel caso di errori di rete quindi non sono errori applicativi se c'è una risposta del server va bene se io non riesco a contattare il server va in time out si interrompe la connessione se succede qualsiasi cosa di velo più basso quindi un errore di rete la promise sarà rejected se invece il server mi dà una risposta qualunque essa sia ci sarà un oggetto response che mi consentirà di andare a capire cosa è successo ok quindi facciamo un esempio noi prendiamo codice javascript normalissimo che gira nel browser in questo momento non abbiamo non abbiamo react in questo esempio ipotizziamo di non avere react react lo metteremo dopo questo è il normale codice javascript che voi avreste potuto scrivere nel terzo laboratorio forse nel secondo terzo laboratorio quando avete cominciato a scrivere un po' di client javascript forse era il quarto non so più e avevate i dati fissi fissi con delle costanti degli array per poter fare qualche prova avreste potuto tranquillamente scrivere fetch qualcosa se aveste avuto un server ovviamente bene la fetch prende come primo parametro un url http example com localhost quello che volete ah qui c'era ancora example va bene un esempio ma può essere qualsiasi cosa noi non interessa l'url dell'url ci preoccupiamo dopo la risposta oggetto risposta viene messa a disposizione come parametro della callback del den perché ipotizzando che tutto vada bene la promise è fulfilled quindi ci viene chiamata la callback registrata col punto den e noi ne facciamo quello che desideriamo spesso è processarla per estrarre dal json l'oggetto che poi usiamo nell'applicazione quindi fargli creare l'oggetto json e metterla a disposizione dell'applicazione come con le promise possiamo concatenare i den quindi se noi facciamo un return nella callback del primo den ci ritroviamo l'informazione nel parametro del secondo den e poi facciamo quello che vogliamo qui facciamo un console log perché sapete che quando non sappiamo cosa fare facciamo un console log come una print per vedere cosa è successo se no nella nostra applicazione react la imposteremo per esempio come valore di uno stato ma questo lo vediamo dopo ovviamente come tutte le primitive che ritornano una promise tutti i metodi che ritornano una promise possiamo usarla col punto den punto catch ma anche con la wait e tra i catch se dobbiamo gestire la promise rejected quindi await fetch una sintassi altrettanto valida la risposta è il valore di ritorno della wait data uguale await response json come abbiamo fatto diciamo quando abbiamo visto le promise potete scrivere con i den o potete scrivere con gli await fa lo stesso l'importante è che sappiate quello che state facendo le due scritture sono sostanzialmente equivalenti è ovviamente sbagliato non mettere la wait perché questa è una promise se no il valore di ritorno se io scrivo fetch e basta è immediato ma response contiene la promise non mi contiene il valore della promise risolta ma questo già lo sappiamo da quando abbiamo visto le promise ok quindi vediamo cosa c'è in response fetch ci dà un oggetto di tipo response chiamiamo tipo anche se sapete che in javascript non si può dire tipo perché non c'è una classe però diciamo che tutti gli oggetti creati dalla fetch contengono questi campi queste properties queste proprietà punto ok che è un booleano true false che ci dice se la richiesta http ha avuto successo cosa vuol dire che la richiesta http ha avuto successo vuol dire che il codice di ritorno era della serie 200 quindi da 200 a 299 vi ricordate quando noi lato server impostiamo uno stato status 200 status 201 204 non so più se c'era se noi impostiamo uno stato della serie 200 vuol dire che per noi la richiesta ha avuto successo e quindi lato client possiamo facilmente identificarla come una richiesta che ha avuto successo andando semplicemente a testare un boolean ok semplicemente perché è vero che c'è anche lo status code quindi punto status ci dice effettivamente il numerino però se noi siamo solo interessati se è andato bene o male se il server è ben fatto e ci da 200 solo quando le cose vanno bene ci basta testare l'ok c'è anche lo status text va bene diciamo che più che altro per debug direi non so quanto è utile nell'applicazione perché queste cose in genere non le mostriamo all'utente ci sono gli headers cellule per il quale è stata fatta la richiesta perché potenzialmente può essere un redirect vabbè ma insomma nel nostro caso non succederà praticamente mai e poi soprattutto c'è il body il body che ci serve per andare a recuperare il body della risposta HTTP cioè dove il server ha messo i dati il server ha messo i dati da qualche parte li mette nel body che si chiama body proprio perché è corrispondente il body della risposta HTTP che è un readable stream quindi noi non useremo immediatamente body come avete visto nell'esempio precedente ma andremo ad usarli in metodi altri metodi messi a disposizione per i tipi di dati più comuni quindi questo è un esempio che potremmo fare non lo faccio girare non penso di averlo no se noi avessimo un server web che ci fornisce data JSON e volessimo provare a caricarlo possiamo farlo ci scrive una nostra pagina HTML carichiamo dentro il codice javascript scriviamo fetch e poi facciamo in console.log che vogliamo e possiamo fare una prova potremmo farla questo è il sito del Politec www.httpv.it slash non so qualcosa se diciamo non ci sono particolari possiamo beh potremmo farlo potremmo farlo dalla console vabbè ma comunque diciamo a noi interessa fino a un certo punto più che altro per farvi vedere che cosa viene fuori completiamo il discorso sulla fetch invece poi facciamo delle prove vi ho messo a disposizione sul github una cartella in cui vediamo un po' di esempi prima di addentrarci effettivamente nella nostra applicazione per fare prima di tutto un po' di pratica con la fetch ma ci sarà anche react in quel caso quindi lo vediamo nella seconda parte della mattina gestione degli errori abbiamo detto la reject ok se ci sono dei problemi di rete solo ed esclusivamente i problemi di rete per cui si entrerà nella reject se il server non è attivo banalmente io contatto un server porta 3000 3001 non c'è il server il sistema operativo spesso risponde lo stesso dicendo con un pacchetto di cmp e chi ha fatto la richiesta si accorge che non c'è nessuno in ascolto e quindi semplicemente non apre la connessione tcp quindi in questo caso la promise diventa rejected ok tutti gli altri valori http come dicevo prima qualsiasi essi siano anche internal server error not found qualsiasi cosa ritornano una promise di tipo full field per cui noi dobbiamo se vogliamo verificare cosa è successo avere una strategia in mente di quello che può succedere ed è per quello che l'altra volta abbiamo documentato bene l'api abbiamo detto può succedere 200 ok 404 not found se l'id non c'è 500 se c'è un problema sul db e così via perché noi dobbiamo sapere cosa ritornano le api del server e sulla base di questo decidere che cosa fare lato client quindi noi suggeriamo di fare un check su response ok perché di solito è la condizione più semplice quando tutto funziona abbiamo caricato dei dati ci sono il server ce li da va benissimo quindi potrebbe essere una buona strategia per prima cosa di testare response punto ok se è settato procediamo normalmente se no dobbiamo capire cosa è successo ok e cosa è successo dobbiamo decidere come gestirlo e questa è una cosa in collaborazione tra il server e il client se il server vuol darci informazioni noi prenderemo dalla parte body oltre che dallo status code le informazioni che ci interessano se il server non collabora nel nostro catch della promise o del try catch se usiamo la wait metteremo il codice che dice che si è verificato un qualche errore e lo visualizza l'utente inizialmente faremo un console log per nostra comodità per non incominciare a introdurre stati di gestione dell'errore all'inizio e così via quindi dobbiamo capire cosa è successo e decidere come gestirlo quindi esempio fetch abbiamo un certo urla che potrà essere http localhost 3000 3001 non so dove facciamo il giro del server slash answers slash questions slash films then response if not response ok allora c'è stato un problema altrimenti procediamo normalmente come se non ci fosse stato un problema ok quindi se ci ha risposto un application json no se non ci ha risposto un application json va bene c'è un errore noi volevamo un json non si sa per quale motivo non ci ha risposto un json va bene se no facciamo return della risposta e poi procediamo a gestirla come vorremmo fare e adesso andiamo a vedere cosa scrive al posto i puntini e l'errore è l'errore se abbiamo usato il then è un punto catch e dobbiamo decidere che fare e se abbiamo usato la wait sarà un try catch intorno alla wait e nel catch decideremo che fare ok arriviamo al buddy tra poco prima di andare avanti vorrei solo chiedervi che la fetch noi finora l'abbiamo vista solo con un urlo se noi non mettiamo altri parametri fa una richiesta di tipo get in http è obbligatorio specificare un metodo dobbiamo per forza scrivere get o post o put o delete un altro metodo http valido se no mettiamo altri parametri il default è get se mettiamo altri parametri opzionali che sono un oggetto diciamo che ha certi specifici campi definiti da chi ha implementato la fetch possiamo specificare un metodo diverso da get degli eventuali header differenti e lo faremo soprattutto quando abbiamo il json quindi facciamo una post cioè il content type da impostare application json come abbiamo fatto la scorsa settimana dal rest client quello dobbiamo dirlo al server se no il server come fa a sapere se abbiamo spedito del testo del json o altro e poi ovviamente il body se dobbiamo inserire il contenuto in una richiesta come in una post è chiaro che questo contenuto va messo da qualche parte e non è sull'urla per cui va messo da qualche altra parte ed eventualmente altri parametri altre proprietà di questo oggetto init che creiamo noi sul client per fare la richiesta e passarla alla fetch che diciamo possono controllare altre opzioni della richiesta che però sono meno importanti per i nostri scopi quindi vediamo una richiesta post che sarà una richiesta che oggi non faremo ma la prossima volta faremo ed è fondamentale per creare nuovi contenuti sul server ovviamente dobbiamo avere qualcosa da mandare tipicamente un oggetto ma può essere qualsiasi altra cosa dipende da come abbiamo strutturato l'API però diciamo tipicamente un oggetto un oggetto javascript noi dobbiamo scrivere la nostra fetch ci sarà l'urla del server va bene virgola e poi metteremo questo oggetto che abbiamo chiamato oggetto init con method post una stringa che ho scritto proprio post oppure put oppure delete oppure get se volessimo ma get è implicito ma get non richiede il body eccetera per cui questa roba è inutile headers che vuole di nuovo un altro oggetto in cui abbiamo nome valore il nome è il nome degli header e il valore è il valore da assegnare agli header di richiesta quindi content type application json e il body è una stringa con il contenuto da inviare come body della richiesta http quindi qui ci viene comodo l'unica volta che ci viene comodo quel metodo che abbiamo visto l'altra volta json.stringify object to send che prende l'oggetto javascript e ricorsivamente trasforma tutto quello che c'è dentro in json quindi noi dobbiamo solo aver creato bene questo oggetto e questo si preoccupa di farlo diventare un json ok fine della fetch e poi ci sarà punto den punto catch a seconda di quello che ci aspettiamo ci aspettiamo una risposta dalla post come abbiamo visto l'altra volta volevamo ritornare il nuovo id inserito creato dal database allora dovremmo avere un den che va a prendere la risposta la processa e così via qui per semplicità per far stare tutto sulla slide non c'è eventualmente un catch se c'è stato l'errore ma questo è l'errore di rete solo di rete non un problema di inserimento un errore di rete di collegamento va bene allora file to connect to server non so quello che volete ok va bene veniamo al body della risposta perché la richiesta è tutto qui la richiesta è sempre json stringify perché abbiamo detto che noi parliamo json basta che abbiamo l'oggetto pronto da spedire e abbiamo finito veniamo invece alla risposta che è un po' più varia per gestire la risposta sull'oggetto response che ci viene ritornato dalla fetch ritornato direttamente con await oppure nel punto then se usiamo il punto then noi possiamo andare a recuperare il body in maniera già preparata comoda per la nostra applicazione in particolare ci sono questi due metodi azzurri che noi useremo ampiamente direi soprattutto il secondo il punto json che avete già intravisto ossia noi anziché andare a prendere il punto body che è uno stream di dati perché i dati potrebbero arrivarci un po' per volte e così via eccetera eccetera noi diciamo se siamo sicuri che ciò che arriva è un json diciamo sostanzialmente prendi il body processalo come json e dammi la risposta direttamente sotto forma di oggetto javascript ricavato da quel json è la cosa più comune che andremo a fare ok quindi non useremo mai direttamente response.buddy perché è uno stream appunto per questi motivi l'api deve essere il più flessibile possibile quindi la fetch deve fare in modo che con la fetch carichiamo due byte come due miliardi di byte chiaro che se sono due miliardi di byte perché stiamo scaricando dei dati grossissimi deve essere flessibile la sufficienza per poterli scaricare quindi non ci può dire aspetta un attimo metto due miliardi di dati in memoria due miliardi di byte e così via no deve offrirci qualche altro metodo per leggerli a pezzetti eccetera ma noi in questo momento non è il nostro caso e non sarà il nostro caso nella nostra applicazione per semplicità più che altro perché noi siamo interessati a creare la struttura dell'applicazione web non tanto a gestire questi casi particolari quindi noi andremo a fare punto json che di fatto aspetta tutto il body il body viene trasformato in json e il json ci viene messo a disposizione sotto forma di oggetto javascript quindi la conversione è tutta automatica ok l'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci è che il server risponda con dei dati json perché se non sono dei dati json aprite la graph e poi non mettete le doppie virgolette ci sono le virgolette singole c'è qualcosa che non è valido in json eccetera ci sarà un errore di parsing e si finirà in un caso differente adesso ve lo dico qual è il caso differente? il caso differente è che il json ci ritorna a sua volta una promise qui siamo pieni di promise quindi ci sarà una promise che se full field avrà come risultato l'oggetto javascript o quello che c'è rappresentato dal json che può anche essere un numero o una stringa per carità o un array se invece c'è un errore di parsing dovremmo agganciarlo quindi sarà una promise reject che non sarà più una promise del fetch ma sarà la promise ritornata da questo punto json che ci dirà c'è stato un problema tipicamente parsing error finisce lì perché se noi ci aspettavamo un json non si può trattare come json abbiamo concluso una comunicazione col server perché c'è un errore da una parte o dall'altra tipicamente questi errori avvengono solamente in caso di errori di programmazione quindi in fase di sviluppo ok tutto il resto dei metodi è per caricare dati binari eccetera ma noi diciamo non ci interessano almeno in prima battuta ok quindi adesso capiamo cosa vuol dire punto json qui quindi respon punto json capiamo che vuol dire e capiamo che quello che viene fuori da un punto json è l'oggetto javascript ok quindi c'è l'oggetto javascript che sarà la conversione di quello che è arrivato dal server in formato json e sarà convertito in un valore javascript che può essere un numero anche un boolean un null per carità una stringa un array o un oggetto ok cioè tutto quello che è supportato dal json mi raccomando di nuovo await perché come vi ho detto punto json ritorna una promise se ci scordiamo ogni await o ci scordiamo il punto den ovviamente non funziona più nulla perché prendiamo la promise e non la promise risolta col suo valore ok qui si suggerisce semplicemente che se avete più fetch da fare scrivere con la await questa è la cosa più comoda perché scriviamo codice sequenziale non dobbiamo annidare le richieste nei punto den delle promise ritornate dalle fetch precedenti ok ma questo diciamo l'abbiamo già visto come esempio anche quando abbiamo parlato di fetch scusa di promise infatti avevamo proprio una fetch di esempio che a quel momento non capivamo a inizio corso ma qui capiamo perfettamente quindi diciamo che noi dobbiamo recuperare la lista degli utenti per recuperare un certo utente dopo che abbiamo visto la lista degli utenti cioè il primo della lista che ne so per esempio dobbiamo fare due fetch ma la seconda fetch vogliamo farla solo quando è finita la prima perché dobbiamo avere il nome dell'utente da recuperare esempio questo è un esempio di tutto teorico se scriviamo con l'await è una cosa relativamente semplice await aspetta che la promise si risolva mi aspetta che la richiesta sia terminata la seconda await aspetta che il parsing del JSON sia terminato cosa che in generale è rapidissima perché non coinvolge più la comunicazione in rete ma è solo un'operazione locale però essendo che potenzialmente la risposta è grande potrebbe anche metterci il suo tempo e poi andiamo a fare la seconda fetch di nuovo con la await col suo risultato e così via ok quindi dobbiamo avere ben chiaro come funzionano le promise ma mi sembrava che non ci fossero troppi problemi e comunque adesso le usiamo nel contesto pratico per cui effettivamente ci servono per cui faremo pratica non c'è problema ripassiamo solo due concetti diciamo così importanti caso mai ci servissero vi ricordate che possiamo anche creare promise il cui codice deve essere eseguito in parallelo si fa col promise all caso mai lo volessimo fare se avessimo richieste verso url di server che possono essere eseguite in parallelo verso lo stesso server verso server differenti mentre recupero i dati recupero anche le previsioni del tempo piuttosto che la quotazione di borsa piuttosto che non so che altro possiamo farlo possiamo farlo tranquillamente la nostra applicazione può gestire queste cose le promise come abbiamo imparato inizio corso sono ideale per fare queste operazioni ok quindi promise all fetch no fetch vi ricordo questa ritorna la promise quindi noi abbiamo un array di promise che passiamo al promise all che poi ci tirerà fuori una volta che le promise sono risolte la risposta è arrivata la risposta di cui ne facciamo ciò che vogliamo chiaramente questi esempi delle slide è sempre console.log per non scrivere altro codice ma noi possiamo usarla nella nostra applicazione per quello che vogliamo di solito per settare uno stato così scateniamo il rende dell'applicazione e visualizziamo qualcosa che sono i dati arrivati ok ecco punto text forse non l'ho detto prima bene dire cosa serve text beh se la risposta è plain text quindi non vogliamo inviare un json soprattutto all'inizio quando facciamo i nostri esperimenti abbiamo a disposizione anche questo metodo punto text che di nuovo ci ritorna una promise che sarà risolta nella stringa di tutta la risposta una volta che la risposta è arrivata completamente ok quindi non dobbiamo per forza avere il json se volete semplicemente vedere cosa c'è sotto forma di stringa fate punto text e questo si può fare ok ultimo aspetto che mi preme sottolineare è che la fetch è a disposizione in tutti i browser moderni per moderni intendiamo degli ultimi almeno dieci anni quindi andate tranquilli che sostanzialmente la potete usare però non è perfetta come tutte le API del browser si può sempre migliorare anche perché le API del browser spesso nascono un po' in fretta perché nascono per una qualche esigenza molto sentita spesso e in certi aspetti si può migliorare chi di voi volesse può anche usare delle librerie che usano la fetch e che ne migliorano certi aspetti non è indispensabile anzi all'inizio ve lo sconsiglio solo se proprio volete fare qualcosa di particolare potete provare ad andare a guardare se c'è una libreria che fa un po' al caso vostro noi vi consigliamo se proprio volete non usare la fetch ma avere qualcosa un pochino più sofisticato questa Axios ok che fondamentalmente vi crea la fetch anche sui browser più vecchi ma vi dicevo parliamo di browser veramente vecchi se non ci fosse ha un metodo semplice per cancellare una richiesta io finora non non l'ho accennato però se noi lanciamo una fetch poi come facciamo la richiesta web sul browser andiamo e premiamo la x no e nel codice javascript e nel codice javascript la fetch è un po' un problema è un po' un problema perché dobbiamo andare a prendere un campo apposta a farci dare un oggetto su cui chiamare un metodo insomma macchinoso non poco e e anche settare un timeout è macchinoso con la fetch cioè se il server non mi risponde dentro 5 secondi fammi la promise rejected e sulla fetch non si può dire non si può fare così semplicemente dire questo 5 secondi da qualche parte dobbiamo implementare noi il meccanismo che l'annulli eccetera eccetera in queste librerie si sono preoccupati di tutti questi aspetti lasciatemi dire un po' più secondari per i nostri scopi ok quindi con Axios se non mi risponde in 5 secondi chiudi la connessione fine ok perché vi potrebbe servire una cosa di questo tipo beh per esempio ci sono dei siti che fanno vedere la progress bar sto scaricando tanti dati non sapete a che punto siete volete annullare lo scaricamento e tutte queste cose qua è chiaro che tutte queste operazioni richiedono un po' di interazione con la fetch che non è banale per cui se avete bisogno di queste cose è meglio rivolgersi a una libreria che abbia messo a posto le cose che se no sono un po' difficili da implementare con la fetch ovviamente va bene ci fa la conversione json eccetera eccetera ultimo aspetto che l'hanno scritto i miei colleghi qui forse per me io non l'avrei scritto comunque se voi non siete dentro il browser ricordatevi che la fetch non esiste se dal lato server vi saltasse di andare a caricare informazioni da un altro server web non potete scrivere fetch la fetch è dentro l'ambiente di esecuzione del browser ma è dentro node ok in node ci sono le promise in node c'è il set timeout ma in node non c'è fetch quindi l'atto server se per caso avessimo bisogno della fetch abbiamo bisogno di una libreria di un modulo come gli n moduli che usiamo che ce la implementi ok però questo è un caso estremamente particolare da un server chiamo un altro server quindi è molto particolare noi di solito andiamo solo a leggere nel db per cui diciamo non c'è questo problema però magari a qualcuno può saltare e dire dov'è sta fetch e non c'è quindi boh usate una libreria che ve la mette a disposizione questo non so se mette a disposizione proprio punto fetch o punto qualcosa forse punto access non lo so comunque diciamo che se avete esigenze specifiche con la fetch prima di rompervi la testa sulla fetch cercate magari se c'è una libreria che vi semplifica la vita ok questo è un po' il messaggio di questa slide ok abbiamo detto più o meno tutto quello che c'è da sapere sulla fetch come immaginate non è tantissimo di fatto è una chiamata abbiamo esplorato i parametri abbiamo esplorato come gestire quello che ci ritorna e dobbiamo solo trovare il modo di applicarlo nel nostro caso d'uso che è l'applicazione React ok per cui visto che non è ancora ora di pausa io procederei un attimino con le slide che non finiremo oggi perché poi a un certo punto facciamo un esempio e prendiamo le slide del cosiddetto life cycle no sottotitolo far vivere i componenti React per ora diciamo sono morti per modo di dire nel senso che fino a che React non esegue la funzione che implementa il nostro componente i componenti non possono far nulla no perché perché sono funzioni pure che sono eseguite solo a render da React ma noi abbiamo bisogno di far funzionare i nostri componenti non solo in quei momenti il caricamento dei dati dal server è uno di questi quando arriva la risposta dobbiamo fare qualcosa ma questo evento non è un evento dell'interfaccia web è un altro tipo di evento quando il componente viene creato dobbiamo andare a caricare i dati dal server e come facciamo a dire quando il componente è creato in questo momento non abbiamo un meccanismo perché non siamo in grado di agganciare la creazione dell'evento la creazione del componente da parte di React per ora no ovviamente dopo queste slide si ok quindi c'è vita prima e dopo il return del JSX va bene allora ovviamente quello che abbiamo visto finora l'azione di render del componente è la parte più importante della vita del componente perché senza quello il componente non visualizza nulla ed è ciò su cui ci siamo focalizzati fino ad ora con React voi avete scritto sempre funzione return del JSX e quello è quello che viene visualizzato quando il componente ha bisogno di essere aggiornato ok ma possiamo agganciare anche altri due eventi nella vita del componente cioè quando il componente di React viene creato e l'operazione si chiama mount cioè montaggio all'interno dell'albero del virtual DOM di React e parallelamente smontaggio cioè questo componente sparisce quindi verrà distrutto da React perché sparisce dal virtual DOM poi magari potrà ricomparire e quindi ne verrà creato un altro se JSX lo prevederà ok quindi c'è da poter gestire anche queste situazioni in cui il componente viene montato e poi eventualmente smontato allo smontaggio diciamo fondamentalmente dobbiamo solo rilasciare le risorse eventualmente allocate per qualche motivo ma per lo stato ci pensa React per altre eventuali risorse timer o cose di questo tipo dobbiamo gestirli ma diciamo per noi è una cosa un po' rara dover gestire l'unmounting lo smontaggio e invece sarà molto più interessante gestire l'evento di mount perché per esempio quando si monta il componente app che è quello radice di tutta la nostra applicazione ovviamente vorremmo andare subito a caricare i dati da parte della nostra applicazione verso il server dell'API farci dare la lista di quello che volete visualizzare nel vostro lab i films nella nostra applicazione le domande con le risposte perché i dati se no poi non arrivano abbiamo un'applicazione visualizzata vuota no? è chiaro che non appena ci accorgiamo che l'applicazione quindi il componente app il componente principale che deve mostrare i dati viene montato noi dobbiamo scatenare richieste verso il server e andare a recuperare informazioni e quindi dobbiamo essere in grado di agganciare questo evento e non possiamo farlo nel render perché se no ogni volta che React decide di visualizzare qualcosa noi andremo a fare richieste verso il server che non è corretto ok? ok quindi per fare questa operazione avremo un'uca apposta che si chiama use effect che diciamo si inserisce in una serie di hooks più come dire più ampi una serie più ampia di cui noi abbiamo visto lo use state e lo use context e non vedremo altri hook chi di voi eventualmente fosse pratico con React e volesse veramente usarli perché non ne può fare a meno va bene diciamo all'esame sono passabili se tutto funziona però deve anche saperli spiegare ok ci sono tante situazioni in cui possiamo avere la necessità di usare altri hook ma noi non le vediamo e ovviamente non le pretendiamo all'esame perché la nostra applicazione è relativamente semplice ok quindi non ha bisogno di questi altri hook noi abbiamo bisogno di conoscere use state use context che abbiamo già visto e use effect che come vedete è in un'altra zona di questo disegno perché lo use state e lo use context funzionano nella fase di aggiornamento del componente quindi tutte le volte che React decide di fare il render del componente quindi ci chiama la funzione che fa il return del JSX e lì dentro noi possiamo fare use state recuperando l'informazione dello stato e decidendo cosa far vedere o il context per andare a recuperare l'informazione senza le props dopo che React ha finito avrà un JSX quindi che sarà una serie di tag nel virtual DOM da portare sul DOM reale per farli vedere nel browser in questa fase a React possiamo dire di eseguire delle nostre funzioni condizionatamente allo stato in cui ci troviamo cioè se siamo al mount possiamo dire di eseguire una cosa se siamo durante l'update di eseguire altre cose e così via questa operazione la facciamo con questo use effect che ovviamente prenderà una callback ok che che verrà eseguita diciamo sempre dopo il mount dopo l'update dopo l'unmount condizionatamente ai vari parametri che noi passiamo alla use effect dopo la callback adesso andiamo a vedere come funziona questa use effect ok poi ci torniamo sopra e spendiamo oggi e la prossima settimana a capire bene la use effect anche perché è un hook abbastanza complicato ok fare qualcosa al di fuori della fase di render rende automaticamente le operazioni che andiamo a fare degli effetti collaterali dei side effect per questo l'hanno chiamato use effect ok cioè delle cose che non sono direttamente collegate ai parametri passati alla funzione che fa render cioè alle props oppure allo stato che già era una maniera di introdurre in maniera controllata valori come dire che persistevano tra un render e l'altro questi effetti collaterali sono qualsiasi operazione che diciamo non è diretta a calcolare il risultato della funzione di render cioè il return che noi scriviamo nel componente nella funzione del componente ok esempi di effetti collaterali e il più diciamo importante che è quello su cui ci concentriamo di più ovviamente è caricamento dei dati data fetching però potrebbero esserci anche altre cose per esempio logging ogni volta che facciamo qualcosa dobbiamo fare un log il log è magari diverso ogni volta che facciamo qualcosa quindi questo di fatto è un effetto collaterale con meno impatti sull'applicazione ci sarà uno stream una console dove ci sono delle stringhe va bene mentre invece il data fetching cambia il contenuto di stati fa altre cose più sofisticate però è comunque un effetto collaterale i timer sono un altro effetto collaterale cioè qualcosa che noi vogliamo impostare e fare in modo che si verifichi solo in certe determinate condizioni al di fuori del meccanismo di render di react ok quindi il meccanismo di rendering e la logica cioè il codice che noi scriviamo per ottenere i nostri side effect effetti collaterali sono del tutto indipendenti e per renderli indipendenti dobbiamo dirlo a react perché react esegue il codice della funzione del nostro componente solo quando ha bisogno di fare il render ok quindi noi il codice che non deve finire nel render dobbiamo dire a react eseguirlo in un momento diverso per fare ciò lo passiamo come callback a questo hook use effect dicendogli anche quando dobbiamo andarlo a eseguire e sarebbe ovviamente un errore avere dei side effect direttamente nella parte body del componente cioè nel codice della funzione che fa anche il return del jsx che decide come visualizzare il componente quindi noi non vogliamo avere side effect in questa fase di render quindi nella fase di render faremo solo cioè nel codice del render faremo solo un use effect dicendo cosa eseguire quando ce ne sarà bisogno ma non lo eseguiamo in quel momento ok e react si occuperà di far girare questi codici che noi scriviamo dopo il rendering e dopo aver aggiornato il DOM del browser ok ma questo diciamo è una cosa diciamo più 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 tecnica quindi esempio e poi intanto vado a prepararvi l'esempio per farvelo vedere faccio una pausa noi non vogliamo avere una situazione come questa a sinistra questa è una delle situazioni più semplici possibili che tra l'altro spesso usiamo per nostra comodità però va contro la filosofia react cioè noi non vogliamo durante l'operazione di rend cioè nella function scrivere del codice ed eseguire immediatamente che abbia un effetto collaterale un effetto collaterale è un risultato che non va a finire nel return per esempio il console log ok noi lo facciamo abitualmente perché l'abbiamo visto in laboratorio anzi anche io ho detto metto un console log qui là perché vogliamo vedere cosa sta succedendo ma adesso un solo console log non ci dà particolare problema dal punto di vista del funzionamento dell'applicazione ma qui non possiamo fare un caricamento di dati è proprio sbagliato qualcuno all'esame lo fa infatti viene penalizzato per questa cosa perché se noi lo facciamo qui tutte le volte che cambia l'interfaccia andiamo a ricaricare i dati ed è sbagliato noi i dati li dobbiamo ricaricare quando c'è bisogno non quando si fa render e quando c'è bisogno lo dobbiamo decidere noi con la nostra logica e avremo poi ovviamente un modo per dirlo alla use effect quindi se noi scriviamo una cosa come questa a sinistra questo cos'è un normalissimo componente che fa un div con un messaggio niente di speciale mostriamo un messaggio a schermo ma se noi mettiamo un console log qui tutte le volte che viene fatto render questo componente viene fuori un console log sulla console quindi una stringa sulla console che è un effetto collaterale se noi avessimo messo un caricamento di dati tutte le volte andremo a caricare i dati questo sarebbe sbagliato se invece noi vogliamo abbiamo bisogno di fare un'operazione che avvenga solo in un determinato momento in alcuni determinati momenti del ciclo di vita del componente dobbiamo dire a react tramite look che vedremo dopo use effect che vogliamo eseguire questo codice quindi passiamo una callback vedete non scriviamo con solo aperta chiusa tonda freccia passiamo una callback è codice da eseguire poi di cui noi diamo riferimento la callback e dovremo poi dire quando e questo ovviamente dipenderà da cosa scriviamo come secondo parametro vi anticipo che questo array vuoto vuol dire solo al mount del componente quindi questo codice verrà eseguito solo una volta nel ciclo di vita del componente potremmo ovviamente cambiare questo aspetto a piacere a secondo del nostro bisogno ma questa è la maniera corretta di andare a fare operazioni che sono effetti collaterali all'interno dei nostri componenti react ok l'operazione che ha effetti collaterali più comune che andremo a fare sarà quella del caricamento di dati sulla quale ci concentriamo poi nella seconda parte di questa mattina dopo aver capito bene come funziona la use effect perché è un API abbastanza complicato cioè possiamo scrivere tante cose diverse nella callback nelle dependencies quindi come secondo parametro e così via e quindi dobbiamo spenderci un po' di tempo per capirla bene ci spenderemo oggi e poi la prossima settimana concludendo bene l'esempio che abbiamo in aula così che fondamentalmente siete in grado di scrivere un'applicazione react completa tranne alcune cose particolari come l'autenticazione il multiutente e così via che andremo a vedere nelle ultime lezioni va bene se non ci sono domande io farei un attimo pausa qui sì e ci riprendiamo tra dieci minuti no 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 no